Che cosa teniamo Gianluca? Come dove sta? Gianluca, cammini, cammini Gianluca è impreparato Io lo cambierei, io lo cambierei Va bene, adesso è arrivato il mio momento Tu sai quello che devo cantare? No, lo sei tu Allora fuori, fuori Signore e signori Fuori Ania, insieme a Antonio De Simone il vostro sexman Eccolo qua, canterò Con la dolce compagnia di Antonio De Simone Microfono Ecco qua, tutto in ritardo ma non fa niente Grazie Eccolo qua, tutto in ritardo E noi Per uscire dall'ultima scena Questa mano, mano, mano Senza Non è un coraggio E c'è guarda Famo che la capo Indifferentemente Tanto sa c'è c'è cazzo Per te non so E' rile pura Mentre me scippa fietta che sto corpo Non sento giù dolore E non sento giù l'agromato te Fammi che l'accavo Indifferentemente Tanto sa c'è il passo Per te non so giù niente E' tan masturlena Non lasci per tutti i mali Perché indifferentemente Se tu mi gira Io non dori con niente Non dori niente Non dori con 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 niente